Tra i servizi offerti da Confartigianato Vicenza, la possibilità di richiedere l'iscrizione o il rinnovo all'albo nazionale gestori ambientali. Contattando l'area ambiente e certificazioni dell'associazione, infatti, tecnici esperti saranno pronti ad affiancare gli imprenditori nelle delicate scelte in tema di trasporto dei rifiuti, che potrebbero diventare difficili da compiere senza un supporto specializzato. Si tratta quindi di una preziosa opportunità di risparmio anche per gli imprenditori della categoria 2bis, che ad oggi conta circa 2.000 iscrizioni nel Vicentino. Rudy Cestonaro, dell'area ambiente dell'associazione, ci spiega i dettagli di questo servizio. Da circa 15 anni, le aziende che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività devono essere iscritte all'albo nazionale gestori ambientali in categoria 2bis. L'iscrizione ha una durata di 10 anni e nel 2022 saranno moltissime le ditte che dovranno rinnovare la propria iscrizione. Si ricorda che sono circa 2.000 le imprese vicentine attualmente iscritte nella categoria 2bis per poter trasportare i rifiuti prodotti. L'iscrizione permette una migliore organizzazione del lavoro, in particolar modo per le ditte che operano nei cantieri, quindi soprattutto imprese edili ed impiantisti. Infatti, la ditta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali non ha la necessità di dover chiamare un trasportatore legittimato per allontanare i rifiuti dal suo sito di lavoro. Questo comporta anche una diminuzione dei costi aziendali, in quanto le ditte per il trasporto potranno utilizzare i mezzi che hanno già a disposizione e di cui si servono tutti i giorni. Qualora abbiate la necessità di rinnovare o modificare la vostra iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, oppure abbiate l'esigenza di ottenere l'iscrizione, potete contattare l'area ambiente e certificazione di Confartigianato Vicenza. Troverete dei tecnici che vi potranno far ottenere, in tempi brevi e a costi contenuti, tutte le autorizzazioni necessarie alla vostra attività.